ciao ben ritrovati come state allora andiamo a vedere un po il mese di ottobre si sono un po in ritardo mi rendo conto ne rendo conto oggi è già l'undici però ci sono ancora 20 giorni quindi sono ancora siamo ancora in tempo andiamo a vedere questo mese di ottobre le varianti sono contrassegnate da questi tre mazzi di tarocchi quindi prima variante seconda variante terza variante vi lascio ancora qualche secondo per scegliere poi direi che possiamo iniziare eccoci prima variante allora prima di andare a vedere come sarà questo mese di ottobre cioè i prossimi 20 giorni ormai ti ricordo che se vuoi conoscermi meglio puoi visitare il mio sito l'angolo di claudia.com per i consulti personali puoi vedere attraverso il sito oppure mi puoi scrivere su whatsapp a 351 682 4400 anche perché ho introdotto e nel sito non c'è il consulto di 30 minuti e il consulto a soli 10 euro se è solo una domanda allora andiamo a vedere con i tarot of positions come sarà questo mese di ottobre cioè come saranno i prossimi 20 giorni in questo caso allora abbiamo la regina di denari ok scusate prendo gli occhiali mi dimentico sempre fermo un attimo eccomi qua allora regina di denari abbiamo il 10 di spade al dritto perché qui ci sono sempre e poi abbiamo il 7 di denari anche questo al dritto più che altro interessante che siano al dritto con le carte un po più negative mettiamola poi abbiamo un 3 di spade l'avevo appena detto qui è al contrario un carro al contrario un 10 di bastoni al contrario abbiamo la morte al contrario e la regina di spade al contrario appena ho detto che erano tutte al dritto sono venute al contrario sono cadute al contrario bene allora poi andiamo ad approfondire dunque sicuramente è un mese da quello che vedo dove ci saranno dei momenti un po di difficoltà anche se siete molto l'energia è quella di vedo vi vedo molto concentrati nel concreto sul concreto su delle cose da sistemare e vedo anche delle opportunità per voi in questo mese di ottobre quello che rema un po contro sono un po queste carte nel senso che è come se ad ottobre ci siano dei nel mese di ottobre ci siano dei primi passi verso un miglioramento di una situazione a cui a cui tenete ma ci sono ancora dei dei momenti come dicevo prima un po di blocco o dei blocchi vostri o dei timori vostri delle paure vostre oppure proprio anche degli ostacoli magari pratici quindi adesso andiamo ad approfondire vediamo un po tutte queste carte però questo è un po diciamo il messaggio è un po di blocco principale vediamo adesso perché c'è la regina di denari vediamo perché c'è la regina di denari allora addirittura 3 abbiamo il 2 di denari al contrario il cavaliere di spade al contrario e la stella che però è al dritto allora quello che io vedo vediamo il fondo mazzo il fante di bastoni allora quello che io vedo qui è che voi veramente siete molto concentrati su un qualcosa che volete realizzare e su proprio un desiderio che volete realizzare è come se però non fosse ancora il momento io credo che dobbiate in questo mese essere molto regina di denari cioè passo dopo passo mi viene da dire qui il fante di bastoni anche il fante di bastoni è al contrario quindi mi viene da dire siete sicuramente sulla strada giusta perché la regina di denari comunque è un'energia molto positiva e molto inquadrata ma questo mese ci possono essere dei rallentamenti ecco questo più che altro viene fuori allora adesso andiamo a vedere scusate voglio fare così così andiamo a vedere tanto poi quando cadono cadono al dritto non c'entra andiamo a vedere il 10 di spade che però è al dritto quindi c'è si comincia a vedere un po' di uscita da un tunnel allora vediamo perché questo 10 di spade è al dritto no queste sono troppe queste sono troppe allora perché c'è il 10 di spade al dritto anche qui tre carte allora l'eremita al contrario la giustizia e il 5 di coppe fondo mazzo abbiamo il 4 di coppe al contrario allora c'è infatti un inizio come dicevo prima come posso dire un inizio di uscita da una situazione complicata però appunto come dicevo prima è un percorso un po' lungo cioè nel mese di ottobre quello a cui tenete molto una situazione materiale a cui tenete molto non si risolve però qui c'è la la giustizia il 5 di coppe al dritto cosa significa l'eremita al contrario ovviamente è una come posso dire una non una solitudine forzata non che siate soli ma avete dovuto esaminare magari vagliare tante cose capire come come muoverli qui c'è una sorta di apertura nel mese di ottobre e c'è come un'opportunità che mi viene da dire coglierete che magari sul momento non vi lascia tanto non vi convince molto o non magari la vorreste scartare però io penso che alla fine ci sarà un'opportunità che coglierete e credo che vi farà pensare più positivo rispetto ad una situazione che a cui che vi sta molto a cuore allora vediamo facciamo così ok adesso andiamo a vedere perché c'è il 7 di coppe eccole qua abbiamo di nuovo la stella e il 6 di bastoni beh allora qui abbiamo il fante di bastoni al contrario allora è un po' quello che dicevo prima cioè mi viene da dire che qui nel mese di ottobre pure se ci sono delle resistenze ci possono essere dei momenti di rallentamenti complicati delle vostre paure dei vostri timori però qui c'è una bellissima opportunità che vi darà un grande stimolo a a crederci ancora mi viene da dire a credere ancora con questa stella e il 6 di bastoni che potete farcela che potete realizzare quello che desiderate quindi questo è molto importante perché penso che possa dare un essere una nota veramente molto positiva in questo mese che può effettivamente essere un po' un po' complicato allora andiamo a vedere perché c'è questo 3 di spade abbiamo il 2 di spade che però è al dritto e poi abbiamo il lotto di spade al dritto quindi c'è un miglioramento dopo questa opportunità che arriva c'è un miglioramento per quanto riguarda proprio anche come un allentare la vostra mente i vostri dubbi vi sentite un po' meglio proprio dal punto di vista mentale dal punto di vista delle preoccupazioni questo 8 di spade al dritto è bellissimo perché non c'è più la persona con le mani legate c'è la sedia libera c'è la sedia vuota quindi è molto significativa questa carta al dritto quindi viene da dire che questa opportunità che coglierete vi alleggerirà mentalmente vi darà veramente un po' di respiro allora vediamo perché c'è il caro al contrario allora abbiamo il fante di spade il 4 di denari che però è diciamo in versione positiva il forno mazzo abbiamo la torre anche qua in versione al dritto diciamo positiva allora io in realtà quello che vedo è che c'è proprio mentre prima con la stesa generale si vedevano parecchi ostacoli in realtà approfondendo vedo che almeno per alcuni di voi ci sarà un bello sblocco questo caro al contrario è legato a mi viene da dire una sorta di attaccamento che però dovete lasciare andare una sorta di vostro modo di vedere le cose che dovete lasciare andare e lo farete perché con questa torre è come che ci sia un qualcosa che vi costringa che vi costringerà a cambiare alcune cose di voi cambiare alcuni modi di vedere le cose o cambiare un approccio nell'affrontare una determinata situazione a cui tenete vediamo adesso il perché c'è il 10 di bastoni abbiamo la ruota al contrario fondo mazzo abbiamo il papa al contrario sì allora allora è veramente altalenante questo mese di ottobre allora c'è questa sicuramente un'opportunità questa bella opportunità che vi alleggerisce ma comunque non non è ancora come dicevo prima la svolta definitiva dovete ancora un po' pazientare questa ruota al contrario il papa al contrario con il 10 di bastone mi fanno capire che è un mese è un mese ancora poi lo dice anche la morte al contrario di evoluzione per voi di transizione mi viene da dire ecco questo per voi è un mese di transizione e le transizioni insomma possono risultare in certi momenti anche un po' pesanti allora vediamo perché c'è la morte al contrario aspettate che intanto sistemo queste carte ok allora perché c'è la morte al contrario abbiamo un bellissimo asso di coppe e l'appeso al dritto cosa significa significa che qui mi torna un po' a confermare una bella opportunità che vi vi ehm vi sblocca da una situazione di eh di stand by no di appeso quindi qui c'è come l'abbiamo già visto prima ci sono delle opportunità delle belle opportunità che vi possono anche ehm come posso dire far uscire da una vostra zona comfort c'è bisogno che che usciate dalla vostra zona comfort qua mi viene da dire dalle solite cose che fate io credo che il mese di ottobre vi metta un po' la prova su questo ecco perché è un mese di transizione e vediamo l'ultima regina di spade al contrario perché c'è la regina di spade al contrario allora abbiamo di nuovo il fante di spade di nuovo il 4 di denari con omazzo la torre quindi si sono volute ripetere queste carte allora e qui di nuovo c'è questa vostra resistenza questo vostro attaccarvi a qualcosa con tutte le vostre forze è veramente un mese di energie molto altalenanti quello che mi viene da dire è cercate di cogliere veramente il positivo di queste opportunità che arrivano perché dovete secondo me prima variante dovete proprio uscire dalla zona comfort fare cose diverse anche se sono esperienze di transizione che poi non è detto perché comunque venivano fuori delle belle opportunità però servono sono belle comunque perché servono per togliervi da una situazione molto stagnante rispetto naturalmente a una questione a cui tenete perché qui c'è una regina di denari quindi c'è la volontà di risolvere qualcosa allora se volete risolvere un qualcosa a cui tenete in questo mese dovete cercare di fare e accettare magari anche cose che sicuramente vi alleggeriscono e fanno parte del vostro percorso e però ecco non è mese di risoluzione è un mese di transizione questo è importante da dire ok prendiamo un arcano maggiore da questi tarocchi le taromi stick vediamo che cosa viene fuori la forza vedete forza dovete essere forti trarre proprio la vostra la forza rappresenta proprio la forza interiore che la regina di denari ha quindi voi avete questa forza interiore non mollate mi raccomando non mollate è un mese particolare sicuramente ma non mollate perché dovete proprio attingere dalla vostra forza interiore bene prima variante io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao eccoci seconda variante mi dico sempre voglio ricominciare a mettere i time come si chiamano insomma i tempi delle varianti delle letture poi mi dimentico però insomma tornerò a farlo perché mi rendo conto che è molto più più semplice per voi allora i night sun tarot di lisa parker andiamo a vedere anche per te seconda variante come saranno i 20 giorni rimanenti del mese di ottobre ormai prima di iniziare ti ricordo che se vuoi conoscermi meglio puoi andare a visitare il mio sito langolodiclaudia.com e per quanto riguarda i consulti personali mi puoi contattare anche al 351 682 4400 su whatsapp anche perché nel sito non mancano diciamo i consulti di 30 minuti e il consulto da 10 euro per chi ha solo una domanda allora andiamo a vedere andiamo a vedere come saranno questi ultimi 20 giorni di ottobre perché oggi lo ripeto è l'11 di ottobre quindi la prima decade se ne è già andata allora questa si è girata abbiamo l'eremita questo micetto che guarda la candela poi abbiamo l'imperatrice la mamma cavallo col piccolino e avete già due arcani maggiori questo mazzo di carte fa un po' fatica le voglio far cadere quindi però fanno un po' fatica queste a cadere però si girano quindi va bene allora abbiamo un asso di bastoni un 4 ah sono 4 un 4 di coppe un 7 di coppe la temperanza qualcuno di voi forse non so ama i cavalli o perché ci sono già due carte con i cavalli o i gatti ovviamente ma mi hanno colpito molti i cavalli perché è già più singolare insomma i gatti li hanno in tanti allora abbiamo no queste sono troppe allora eccezionalmente ne prendo 3 perché sono cadute se ne sono girate 3 allora cavaliere di spade 8 di bastoni e l'ultima è il 9 di denari beh caspita dunque ragazzi a me viene da dire che questo è un mese di grandi soddisfazioni di grandi soddisfazioni perché mi aprite con un'eremita e mi chiudete con un 9 di denari cioè mi aprite con un'energia bella ecco la dell'eremita di riflessione di valutazione di di una luce comunque che appare no dopo un periodo di appunto riflessione valutazione su qualcosa e mi chiudete con un 9 di denari che è la carta che dà l'energia di chi ha un senso di benessere proprio che sia economico che sia in generale però è una bellissima energia nel mezzo effettivamente qui c'è un bellissimo inizio per voi e ci sono delle opportunità o una opportunità importante però con questo 4 di coppe 7 di coppe io vedo che è come se è come se questo mese fosse importante in particolare per c'è del movimento c'è un asso di bastoni e c'è l'otto di bastoni c'è del movimento anche il cavaliere di spade sono il cavaliere di spade fra l'altro vicino all'otto di bastoni sono due energie molto veloci come se all'improvviso si muovesse tanto per voi si muovessero tante cose per voi ma in positivo c'è una sorta anche di con la temperanza una sorta di guarigione da qualcosa grazie proprio a queste energie a queste a questi movimenti in positivo per voi opportunità comunicazioni tant'è che arrivate con mi chiudete con un 9 di denari quindi con un grande benessere quindi probabilmente la prima parte di ottobre è stata un po' magari per questi dieci giorni non lo so insomma è stato un po' ancora un po' più dentro di voi più riflessiva più valutativa non dinamica non di movimento in realtà dopo c'è un ottobre abbastanza scoppiettante mi viene da dire allora adesso andiamo a vedere tutte le carte vediamo perché è uscito l'eremita allora abbiamo mamma mia abbiamo l'imperatore fondo mazzo il mago quanti arcani maggiori che avete allora un altro messaggio che mi arriva è che qui ci potrebbe essere per alcuni anche una solidissima collaborazione o un inizio di di una frequentazione importante che può sbloccare veramente tante cose che sia di lavoro che sia amicale però ecco vi vedo almeno alcuni di voi vicino a questa figura dell'imperatore oppure voi siete imperatori vi vedo vicino all'imperatrice insomma c'è una una coppia qui che ripeto col mago mi porta questo nuovo inizio mago e asso di bastone anche fra l'altro che sblocca tante situazioni e può essere ripeto in qualsiasi ambito vediamo adesso perché c'è l'imperatrice abbiamo il sole ragazzi mamma mia che meraviglia il sole e il mondo non ci credo tutti arcani maggiori pazzesco allora ragazzi questo mese di ottobre è se non altro io credo per molti di voi che hanno scelto la seconda variante perché sono tutte carte molto belle ma insomma sicuramente per alcuni c'è proprio la realizzazione di qualcosa che va a chiudere un ciclo e se ne inizia un altro e mi arriva molto che probabilmente è questa coppia cioè questo essere in coppia con qualcuno che porta a questo sole che porta a questa realizzazione vediamo perché c'è l'asso di bastoni un po' che portano perché c'è l'asso di bastoni non si girano le carte non cadono vediamo se arriva qualcosa spero che non abbiate fretta perché vedo che allora perché c'è l'asso di bastoni una carta per favore almeno una ecco vedi ne chiedi una ne arrivano tre allora abbiamo il papa altro arcano maggiore la regina di bastoni il cavaliere di spade eh sì ragazzi qua c'è proprio qualcosa di grosso e lotto di denari sì qui mi conferma c'è questo nuovo inizio che dà un'impronta proprio una impronta nuova ci sarà molto c'è molto impegno in questo mese di ottobre per voi vedo molto impegno però riguardo qualcosa che vi riaccende mi viene da dire è un qualcosa che proprio vi riaccende e ha dei connotati dei presupposti molto molto positivi qui ne sono uscite troppe quindi le riprendiamo allora quattro di coppe vediamo perché c'è questo quattro di coppe allora tre di denari due di coppe mamma mia e cinque di bastoni con nomazzo abbiamo il lotto di spade allora quello che io vedo è che qui c'è proprio la risoluzione di qualcosa che almeno questo può essere anche un messaggio ulteriore magari c'è la risoluzione anche ci potrebbe essere la risoluzione di un conflitto di una particolare situazione che aveva smesso di essere armoniosa e qui c'è invece la di nuovo ritorna assolutamente l'armonia e la voglia proprio di confrontarsi di collaborare quindi questo potrebbe essere anche un messaggio ulteriore rispetto comunque a un inizio importante proprio che vi che vi riaccende c'è questa coppia siete con qualcuno vedo molto questo allora vediamo perché c'è il sette di coppe quindi Allora. Allora, si è girata, si è girata. Questa di nuovo, il 2 di coppe, Pondomazzo, la regina di spade. Allora, vi vedo, viene da dire che questo mese in particolare è un mese che vi darà talmente tanta, mi viene da dire proprio con questo sole, tanta serenità, tanta felicità, almeno in alcuni ambiti. E io credo che mollerete un po' le vostre difese. Ci saranno delle occasioni, delle opportunità che vi renderanno veramente, che creeranno delle situazioni molto armoniche. E questo farà sì che magari le vostre difese che potete aver avuto riguardo a qualcosa, riguardo anche a un periodo precedente, finalmente si allentino. Adesso questa la mettiamo un attimo qua, vediamo perché è uscita la temperanza. Crollate tutte le carte, però se ne sono scoperte due e abbiamo la stella, un altro accano maggiore. Guardate che nella prima stessa non sono usciti così tanti accani maggiori, ve lo dico, col sette di bastoni. Qui vi andate proprio a prendere qualcosa che volete, ve la andate proprio a prendere. Mi viene da dire dopo tanto tempo, con questo sette di bastoni e la stella, questi tre micetti che guardano la stella, vi andate proprio a prendere quello che volete. Cavaliere di spade, vediamo perché c'è il cavaliere di spade. Cavaliere di spade, perché c'è il cavaliere di spade. Ogni tanto fanno i dispetti queste carte. Si fanno un po' desiderare. Cavaliere di spade, perché c'è il cavaliere di spade. Ecco qua, no, sono troppe. Quattro carte, vabbè, ne prendiamo. Allora, abbiamo cavaliere di bastoni. Non riesco a capire questo. Otto di coppe. Sette di denari. E diamanti, un altro accano maggiore. Aspettate che faccio così. Tanto queste le abbiamo già viste. Così alzo. Ok. Allora. Allora, qui, premesso che è veramente un ottobre per voi pieno, pieno di cose. Mi viene da dire, che può riguardare veramente tanti ambiti. Qui c'è una scelta, anche che voi sarete chiamati a fare, riguardo a un'opportunità da cogliere. Perché quando escono, diciamo, in un'unica mini lettura, insomma, esce più di un cavallo, di solito è un'occasione da cogliere. Quindi c'è una scelta, vi troverete di fronte a una scelta. Perché non mancavano le cose belle, le cose importanti. Avete anche quest'altra cosa. Allora, c'è una scelta da cogliere che vi può portare verso una direzione molto più, anche, come posso dire, produttiva, costruttiva, remunerativa. Quindi, questo è veramente un ottobre pazzesco per voi, eh. È ovvio che, magari, è ovvio che non è che tutto riguarda tutti. Però ci sono talmente tante cose in ballo che comunque qualcosa per voi c'è, perché è veramente incredibile. Allora, perché c'è il 6 di bastoni? Perché c'è il 6 di bastoni? L'appeso, un altro arcano maggiore. Fondo mazzo, la giustizia. Tutti arcani maggiori. Avete delle energie fortissime. Fortissime. Pazzesco. Allora, ragazzi, che vi devo dire? Qui c'è il successo. Qui c'è qualcosa che arriva, che vi rende giustizia, che vi riporta ad un equilibrio, vi riporta in asse. Mi viene da dire, vi toglie da una situazione di appeso, perché questo 6 di bastoni, che è proprio, sono le comunicazioni veloci, è anche la positività nel quotidiano, il successo in qualcosa, mi va ad agire proprio su un appeso. E con la giustizia in fondo al mazzo, mi viene da dire che veramente qualcosa di importante si sistema per voi, qualcosa di bello arriva per voi. Avete una stesa meravigliosa. E adesso andiamo al 9 di denari. Vediamo perché c'è questo 9 di denari. Aspettate che guardo se sta, sì, sta registrando, ogni tanto mi vengono dei dubbi. Allora. Perché c'è il 9 di denari. Eccola qua. Abbiamo un 5 di denari e la regina di coppe. Ragazzi. Una bomba. Finalmente in questo mese mi viene da dire risolvete una situazione che vi renderà talmente felice con la regina. Mi chiudete con la regina di coppe e il 9 di denari. Che mi va ad agire su un 5 di coppe. Il 5 di coppe è la carta della bassa autostima. Del senso di perdita. Del senso di mancanza di qualcosa. Del senso anche di penuria economica. E mi chiudete con un benessere. Mi viene da dire materiale ed emotivo anche. Io non lo so che cosa succede questo mese. Anzi, in questi prossimi 20 giorni. Però questa è una lettura, è una stesa talmente bella, talmente piena di accadimenti, di scossoni positivi che è impossibile che non succeda qualcosa ad ognuno di voi. Perché veramente è bellissima. E soprattutto con tantissimi arcani maggiori che danno veramente una spinta molto forte a dei cambiamenti. Quindi ragazzi, io vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Eccoci, terza variante. Allora, andiamo a vedere anche per te come saranno i prossimi 20 giorni di ottobre. Perché oggi è già l'undici, quindi i primi dieci giorni sono passati. Prima di iniziare ti ricordo che se desideri conoscermi meglio puoi visitare il mio sito l'angolodiclaudia.com e per quanto riguarda i consulti personali puoi anche iscrivermi su WhatsApp al 351 682 4400 anche perché nel sito mancano due tipologie di consulti. Quello di 30 minuti e quello da 10 euro se hai solo una domanda. Allora, detto questo, andiamo subito a vedere come saranno i prossimi 20 giorni di ottobre. Allora, 8 di denari, cavaliere di denari, fante di denari, fante di spade il maco al contrario, il matto la giustizia al contrario e ma che bello, mi chiudete col 6 di bastoni. Allora dunque, quello che salta subito all'occhio è che vi vedo molto in controllo di una situazione di vita materiale di proprio, potrebbe essere lavoro o questioni di casa comunque vi vedo molto in controllo e molto proprio diciamo a capofitto mi viene da dire su una questione di tipo materiale vedo anche che ci può essere un'importante opportunità sempre nell'ambito della vita materiale ma anche non è escluso una conoscenza una nuova conoscenza ovviamente per chi non è felicemente accoppiato che diciamo è una frequentazione molto lenta ok? molto lenta un aspetto che dovete forse curare di più è quello di essere di non essere troppo come posso dire certo dovete magari impegnarvi in una situazione materiale in qualcosa di concreto comunque al di là di quello dovete forse anzi lo farete perché c'è il matto avrete anche un pizzico di incoscienza positiva cioè vi butterete un po' nelle situazioni e e fate bene perché comunque al di là del mango al contrario della giustizia al contrario che adesso vi spiego mi chiudete con un 6 di bastoni quindi mi chiudete con aprite con un 8 di denari mi chiudete con un 6 di bastoni quindi ciò in cui vi impegnate in questo mese va a buon fine avrà una gratificazione avrete le vostre soddisfazioni questi due arcani maggiori al contrario in particolare mi vanno un po' a non hanno diciamo dei significati particolari mi viene da dire però che il mango al contrario potrebbe essere un rallentamento in alcuni momenti del mese rispetto a ciò che vi siete prefissati e e un la giustizia al contrario mi potrebbe dire che alcune in alcuni momenti potreste sentirvi però non ripagati di qualcosa e però mi chiudete con un 6 di bastoni quindi è importante questo quindi queste due diciamo carte al contrario hanno una minima influenza rispetto a tutta diciamo al quadro generale detto questo andiamo a vedere le singole carte quindi vediamo perché c'è questo 8 di denari allora si è girata questa bellissima carta che è il 4 di bastoni e a fondo mazzo il 3 di bastoni quindi ragazzi ciò veramente quello che ho detto prima ciò in cui vi impegnerete in questo mese porterà a delle grosse gratificazioni l'avevamo già visto col 6 di bastoni in fondo qua in fondo vediamo adesso perché c'è il cavaliere di denari abbiamo un bellissimo radicuppe no ragazzi che meraviglia è la regina di coppe allora dunque qui ci sono vari messaggi questo cavaliere di denari potrebbe rappresentare una persona di fiducia per una coppia quindi è un messaggio abbastanza specifico questo che vi diciamo aiuterà tanto in questioni materiali ma potrebbe anche rappresentare una persona diciamo che ha che si mostra sia affidabile come può essere un cavaliere di denari ma anche una persona di cuore una persona che tiene molto a voi e una persona in questo caso veramente potrebbe essere un incontro una nuova conoscenza che potrebbe rivelarsi dal punto di vista anche sentimentale una conoscenza importante sediamo adesso perché c'è il fante di denari perché c'è il fante di denari allora ma che meraviglia cavaliere di coppe fante di coppe no ragazzi io veramente non so cosa dire dieci di coppe allora qui qualcuno si propone o in maniera io ci vedo molto proprio anche l'amore qua i sentimenti viene molto fuori qua oppure è una proposta un'opportunità ma una proposta che vi darà una grande gioia una grande gioia in ogni caso c'è una grande gioia ecco questa è la sostanza cavaliere di coppe fante di coppe dieci di coppe cioè vi vi darà una grande gioia proprio cioè proprio sarete proprio felici qui c'è qualcosa che vi renderà molto felice una proposta una nuova conoscenza una proposta dicevo intendo in senso materiale qualcosa che va a buon fine qualsiasi cosa insomma un aiuto e allora vediamo perché c'è il fante di spade abbiamo il 6 di denari il 5 di denari l'imperatore fondo mazzo il 5 di spade allora questo è solo per alcuni non può essere per tutti qui c'è nel mese di ottobre una situazione in particolare con una persona che è un po' da si deve un po' oddio dipende poi se se volete diciamo rimettere in equilibrio oppure no potreste anche effettivamente alcuni di voi potrebbero anche distaccarsi da un rapporto con una persona di qualsiasi tipo può essere perché non c'è il giusto equilibrio fra il dare e il ricevere quindi alcuni di voi potrebbero allontanarsi prendere le distanze da un particolare tipo di rapporto proprio per questo motivo vediamo perché c'è il mago al contrario abbiamo il re di spade e il cavaliere di spade allora questo mago al contrario potrebbe essere dovuto quindi questo rallentamento di un nuovo inizio che riguarda qualcosa magari di specifico perché è un altro messaggio ancora potrebbe essere dovuto a a questo re di spade no a questa persona che si dimostra poco flessibile riguarda appunto un inizio di qualcosa anche se c'è il cavaliere di spade il cavaliere di spade invece mi vede uno sblocco di questa persona cioè un'azione no quindi questa è una una situazione un inizio di qualcosa magari di tipo lavorativo o di tipo progettuale qualsiasi cosa sia che è un po' rallentato per i diciamo la poca flessibilità di una persona vediamo perché c'è il folle abbiamo l'asso di bastoni pondo mazzo bellissimo tre di denari allora qui c'è e vi butterete in una in una nuova opportunità in una nuova in un nuovo inizio che porterà a delle cose molto positive qui ci sono il tre è proprio la carta della condivisione della collaborazione quindi fate bene a buttarvi come vi avevo poi detto prima ancora nella stesa generale che vi sareste buttati in qualcosa e infatti lo farete e sarà estremamente positiva questo questo asso di bastoni questo inizio guardate poi si è alzato anche il tre di coppe quindi meglio di così vediamo questa giustizia al contrario ci sono più messaggi qua in questa lettura mentre nelle prime due era abbastanza sempre uniforme come messaggio qua ce ne sono tanti quindi prendete un po' quello che sentite che vi può risuonare anche se poi molte cose magari non le sapete ancora allora qui abbiamo un altro arcano maggiore il giudizio e il sole io ho la pelle d'oca è pazzesca sta cosa mamma mia ragazzi qui si sblocca si sblocca una situazione perché con la giustizia al contrario e poi dopo il giudizio e il sole si sblocca una situazione e vi porta a una grande serenità fra l'altro proprio a ridosso del sei di bastoni di questo di questa grande gratificazione di questo successo potrebbe essere anche dovuto a questa opportunità mi viene da dire che coglierete un'opportunità senza tanto pensarci e questo vi sbloccherà sbloccherà proprio mi viene da dire proprio anche voi stessi da un senso di ingiustizia e vi porterà veramente una grande realizzazione perché qui c'è il sole e poi abbiamo subito dopo il sei di bastoni mettiamo il sei di bastoni e abbiamo il fante di coppe e il cavaliere di coppe che cosa devo dire di più cioè ragazzi avete delle carte che sono pazzesche qui c'è una grande lo ripeto c'è una grande gioia una grande felicità ci potrebbe essere anche qualcuno che vi renderà tanto felici quindi qui c'è molto anche l'aspetto sentimentale mi viene da dire ma non solo ci sono delle opportunità degli inizi anche di altro tipo qualcosa che si sblocca insomma veramente ci sono tante cose qua è un mese almeno i prossimi 20 giorni molto 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 pieni di belle cose a parte questi due messaggi che ho detto una situazione magari prendere le distanze da una persona da un rapporto di qualsiasi tipo perché c'è non c'è un equilibrio fra il dare e il ricevere quindi prenderete le distanze oppure una situazione che non inizia perché c'è dall'altra parte una persona poco flessibile questi sono messaggi più specifici ok però in linea generale qui c'è ci sono tante belle situazioni che vi daranno molta gioia molta gioia molta soddisfazione molta un senso di realizzazione proprio quindi terza variante io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao